Mary Jane ASMR il video di oggi è un pass, 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 aggressive se non ti piace ci rivediamo al prossimo video un video che a me piace tantissimo come sapete fare anche se non è, porto poi tantissimo so che a molti di voi beep beep ma il 72 Hasta 8 e quindi voglio 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 hogolarmi 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 ma il Sammar ipnotico super, 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 super fast красивo look at me, look at me, look at me oh, grudu, 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 gr Sì, sì, sì ci prendiamo cura ci prendiamo cura mi prendo cura mi prendo cura mi prendiamo un po' di brushing sul tuo viso mi prendo cura 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 ok 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 mi prendo cura ok 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 mi prendo cura ok 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 relax puro 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 relax puro relax puro relax puro relax puro relax rilassati rilassati no 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 non devi pensare proprio niente a niente in un pc orai orai loai Application Ok, ok, ok Ok, un altro po' di pesante Un altro po' di pesante Un po' di pesante Un po' di pesante Ok, 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 ok Ok, ok, ok Bella, 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 bella Troppo bella Troppo bella Troppo bella Troppo bella Sì, ok, ok, ok Sì, abbiamo i capelli Higher Higher I capelli, i capelli Ti strichiamo i nodi Ti strichiamo i nodi Ok, ok Che capelli, belle, belle, belle Questi capelli, belle, belle Belle, 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 belle Belle, 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 belle Belle, 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 belle Ok, 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 ok Oh bene ok bellissimo bene 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 abbiamo dimenticato di aggiungere solo un po' di blush no no non fa niente non ti preoccupare anche se abbiamo già messo il fissante non importa l'importante è fare un po' le due un po' le due cacce un po' le due cacce lo sono solo come le mele come le mele come le mele come le mele ok eccoci qua bella 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 togli 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 togliamo 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 tutti 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 brutti pezzieri brutti 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 brut Sei bella, 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 bella E sistemata Guardi di la serata E spero che tutti sia rilassato Ciao Ciao, 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 ciao Ciao, ciao, ciao Ciao